Di proposta al Consiglio aventi ad oggetto il bilancio di previsione 2024-2026, variazione di assestamento generale ex articolo 175,8 del TUEL, salvaguardia degli equilibri ex articolo 193 del TUEL, relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del piano di rientro e del disavanzo di amministrazione ex articolo 188,1, decreto legislativo 267-2000, proponente e relatore in aula, l'assessore Pierpaolo Baretta, a cui do la parola. La manovra di assestamento di bilancio che sottoponiamo oggi all'approvazione del Consiglio accompagnata dalla relazione del Sindaco sugli equilibri di bilancio è un passaggio importante nello svolgimento annuale della gestione del bilancio del Comune. L'assessamento va effettuato entro il 31 luglio di ogni anno. Il rispetto di questa scadenza che quest'anno realizziamo presuppone una visione integrata ed allargata della sessione di bilancio, che va vista nelle sue diverse fasi di svolgimento e non solo nel momento dell'approvazione del bilancio preventivo. Questo approccio è possibile solo attraverso una rigorosa applicazione delle diverse tempistiche che segnano le scadenze del calendario annuale del bilancio. Peraltro sono le nuove regole contabili che partono dall'approvazione autunnale del bilancio tecnico che dà il via al calendario a renderci evidenti la necessità di mantenere le scadenze. Finalmente, dopo due anni di lavoro, siamo riusciti a metterci in tiro. Come ricorderete, infatti, gli scorsi due anni, a luglio, avevamo votato il bilancio preventivo. Quest'anno il bilancio è stato votato dal Consiglio i primi di aprile. Dobbiamo ora completare il percorso che ci porterà a votare il bilancio preventivo 2025-2027 entro il 31 dicembre di quest'anno. Dal punto di vista qualitativo, quindi, votare l'assestamento entro la scadenza prevista è il presupposto per raggiungere l'obiettivo principale. Dal punto di vista quantitativo, la manovra di assestamento di quest'anno è rilevante, circa 23 milioni. Una cifra importante possiamo dire che è più di un assestamento. Ciò è possibile perché siamo riusciti a realizzare entrate significative. Mi limito a illustrarle principali. Dalle politiche dirette del bilancio abbiamo recuperato oltre 15 milioni. Stiamo registrando, infatti, un interessante incremento di entrata del pagamento dell'IRPEF. È un segnale positivo che si inserisce nella intera politica di riscossione che abbiamo adottato e che persegue. La risposta dei cittadini si conferma ai livelli iniziali, nonostante i tentativi di disorientamento, con messaggi sbagliati per la collettività, che al di là del loro carattere formale hanno inevitabilmente prodotto la richiesta del parere da parte della Corte di Cassazione. In questo contesto registriamo anche un incremento significativo, quindi, delle entrate dell'IRPEF, che ci consente di stimare per ben 3 milioni la nuova entrata. Anche la tassa di soggiorno, nonostante il livello eccessivo di evasione, risente positivamente del flusso turistico incrementato, il che ci fa prevedere maggiori entrate per un milione. È opportuno conoscere il dato che ci porta a stimare per ogni euro d'imposta un incremento di entrata per il bilancio comunale di 5,55 milioni di euro. Il flusso turistico continua e ci sono stime che prevedono un ulteriore aumento di persone in occasione dell'ormai imminente giubileo, rispetto al quale la legge di bilancio scorsa, proprio in previsione dell'effetto costi e servizi maggiori a carico dei comuni, in conseguenza dell'aumentato numero di ospiti, consente di aumentare ulteriormente l'imposta di soggiorno. In parte conseguente all'incremento dell'attività turistica, ma non solo, è l'incremento della stima di entrate acquisito d'intesa con l'assessorato turismo per l'occupazione di suolo per circa 1,5 milioni. Asia, nei due anni 22-23, ha accumulato risultati positivi per 12 milioni. Abbiamo ritenuto di lasciare in dotazione all'azienda una quota di rispetto a carattere frudenziale di 2 milioni e 5, rilevando perciò 9 milioni e 5 a bilancio. Le infrastrutture hanno incrementato entrate per 2 milioni che sono state utilizzate per coprire un aumento di spese per IVA. Dagli uffici cultura e della gestione della delega del sindaco registriamo un incremento di entrate per 1,8 milioni. Si tratta, come si può constatare, di cifre importanti, ma, come dirò più avanti, si può migliorare. E capiremo subito il perché è necessario farlo. Quest'anno, infatti, sono emerse rilevanti emergenze non previste, ma indifferibili, che hanno assorbito buona parte di queste entrate. Ecco le principali. Come ben sappiamo, una delle cause che provoca un aumento di costi di smaltimento rifiuti, che poi si traduce nella Tari, è la mancanza di impianti. Ora siamo destinati a Tari di un finanziamento pubblico di 12 milioni, per la realizzazione di un impianto di smaltimento di cartoni, il cui costo complessivo è circa il doppio, ma necessita di una compartecipazione del bilancio comunale per circa il 30%. Abbiamo definito col Dipartimento Igiene e con l'azienda un piano suddiviso in due momenti. Una prima quota di circa 6 milioni, che consente l'avvio immediato dell'operazione e a carico di esia, mentre dal bilancio comunale stanziamo circa 5,3 milioni come compartecipazione ai 12 del finanziamento pubblico. Abbiamo parlato di Tari e in effetti anche quest'anno si registra un aumento dei costi, che passano a 253 milioni a 257 milioni. Sono circa 4 milioni di qualcosa in più, che però come amministrazione è ben deciso di non far ricadere sui cittadini, sì che questi 4 milioni circa sono presi in carico dal bilancio comunale e sono finanziati come previsto dalla ultima legge di bilancio dall'imposta di soggiorno. Che è anche per questo che la legge di bilancio ha previsto la possibilità di aumentarli per il giubileo. Va ricordato che con i bollettini Tari in emissione e che vanno in pagamento a settembre, eroghiamo alle famiglie anche il bonus di 6,5 milioni. Il che significa che tra il non aumento dei 4 milioni di quest'anno, che ha vantaggio di tutti, famiglie e non, più i 6,5 milioni,